Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Sono io, Blippi, e oggi ci troviamo alla sede dell'Associazione Culturale Gruppo Storico a Roma in Italia! Qui scopriremo tutte le cose fantastiche che i gladiatori fanno e indossano! Vediamo che cosa serve per essere un buon gladiatore! Wow, guardate qua! Siamo dentro il museo della scuola per gladiatori! Questo posto è meraviglioso! Sì, ci sono un sacco di cose che un gladiatore poteva vedere o indossare tantissimo tempo fa! E con tutti questi oggetti particolari, noi potremmo fare un gioco insieme! Giochiamo a... io vedo! Chissà cosa vedremo! Andiamo! Ci sono tanti splendidi oggetti antichi qui! Come questi strumenti musicali! Già! Questo è uno splendido strumento musicale antico! Sì, per fortuna ci hanno dato il permesso di toccare gli oggetti del museo! Sì, mi raccomando, chiedete sempre il permesso prima di toccare qualcosa! Wow, guardate che bello! Qui è fantastico! Wow, c'è un'armatura e... Un uccello! Cucu! Cucu! Wow! Ok, giochiamo ancora a... io vedo! Io vedo con i miei occhietti... Qualcosa di rosso con delle foglie verdi! Vedete qualcosa di rosso con sopra delle foglie verdi? Già! Lo vedo anch'io, guardate! È una bandiera! È rossa e ha delle foglie verdi! E ha anche delle scritte in latino! Wow! Siete dei grandi osservatori! Su, continuiamo! Wow! Guardate quanti oggetti! Giochiamo ancora un po' a io vedo! Io vedo con i miei occhietti... Un oggetto che ha qualcosina di verde! Già! Guardate! C'è uno scudo con un bordo verde! Wow! Avete visto? Sì, questo scudo è di colore verde, di colore rosso, di colore giallo... E... di colore blu! E... sembra proprio uno scudo che poteva portare un soldato romano! Wow! 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 Ehi! È veramente pesante! Oh! Ma non certo per un gladiatore o per un soldato romano che erano molto forti! Giochiamo un altro po' a io vedo! Io vedo con i miei occhietti... Un elmo romano con delle piume rosse! Vedete qualcosa del genere? Sì! Guardate qua! Un elmo romano con grandi piume rosse! Ehi! Ho un'idea! Giochiamo a travestirci e proviamo quello che indossava un vero gladiatore! Andiamo! Wow! Guardate questo posto! Qui sono custoditi gli elmi e le armature dei gladiatori! Ci sono tanti oggetti fantastici! Wow! Guardate! Sì! I gladiatori indossavano un sacco di cose per poter essere ben protetti! Come questa cintura! Wow! La vedete? Sì! È come una normale cintura ma... È molto dura e resistente! Oh sì! Si indossa così! Ecco qua! La allacciamo! Questa poi ha due fibbie! Sì! Si porta come una normale cintura! Ma con questa ci si sente un gladiatore! Wow! In questo posto c'è di tutto! Sì! C'è anche... Questa meraviglia! Wow! Sì! Wow! Guardate! È molto flessibile! Wow! Già! Tutti questi piccoli pezzi di metallo rivestono il nostro braccio così il braccio rimane al sicuro! Wow! Tutte queste armature sono pesantissime! Ecco perché i gladiatori erano super forti! Wow! Chissà quali e quante altre cose indossavano i gladiatori! Oh! Guardate questa! Questa cintura è tutta pelosa! Wow! Oh! Che bella sensazione! Oh! Vedete questi? Guardate! Wow! Questi proteggono gli stinchi! Sì! Questa parte della gamba qua davanti! Sì! Si mettono in questo modo così le gambe sono al sicuro! Oh! Sapete? Un po' mi ricordano quando per giocare a calcio o a football? Sì! Indossiamo i parastinchi così calciamo la palla e non ci facciamo male! Wow! Ragazzi che forte! Sembra di aver viaggiato nel tempo all'epoca dei gladiatori! Wow! Guardate cosa c'è dietro di me! Già! Gli elmi dei gladiatori! Gli elmi dei gladiatori! Sono fantastici! Contiamo insieme quanti ce ne sono! Cominciamo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e molti altri! Sono un sacco di elmi da gladiatore! Già! E sono di tante fogge diverse! Wow! Guardate questo! Già! Questo qui davanti agli occhi ha tanti piccoli fori! Tantissimi! A me piace questo qui! Questo però è molto, 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 molto pesante! Già! E guardate ha degli occhi veramente simpatici! Sembrano quelli di una mosca o di qualche altro insetto! Già! Ecco! All'altezza degli occhi, come se fossero gli occhiali da gladiatore, ci sono dei cerchi e dei piccoli rombi e dei piccoli triangoli! Wow! Cerchi, rombi e triangoli! Beh, penso che dovremmo provare quest'elmo! Adesso diventerò... Flippi il gladiatore! Pronto! Wow! Wow! È troppo piccolo! Wow! Wow! Già, credo che la mia testa sia troppo grande! Molto divertente! Già! E avete notato? Guardate cosa c'è sopra! Sembra una piccola pinna! Come quella di un delfino! Meeh! 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 Che sciocco! Wow! Avete visto questo elmo? Cospitorina! Wow! Che stronezza! Wow! Questo sembra una specie di animale! Sapete a quale animale può assomigliare? Vi do un indizio! È un animale con le ali! Già! E ha il becco! E ha anche delle piume! Wow! Già! Somiglia proprio a un uccello! Wow! E quest'elmo da gladiatore ha delle piume stupende! Ok! Proviamo a indossarlo! Credo che questo sia un po' più grande! Vado! Oh oh! Anche questo è piccolo! Beh! Ne troverò uno della mia taglia! Wow! Vedete che altro c'è qui? Meraviglia! Degli scudi! Wow! Sono fantastici! Sono tutti differenti! Già! Hanno forme diverse e colori diversi! Come... Questo piccolo cerchio! Oh! È piccolo ed è molto leggero! Wow! Wow! La faccio volare! Già! Questo è il mio preferito! Già! Sembra uno scudo simpatico e poi ha un'impugnatura bella morbida! E poi è leggero! Wow! Ma guardate qui! Questi scudi sono bellissimi! Wow! Questo ha la forma di un enorme rettangolo! Wow! Avete visto? È colorato di giallo e anche di blu! Wow! Guardate! Assomiglia un po' a una stella! Wow! Una stella grandissima! Lassù nel cielo notturno! Beh! Questo è davvero colorato! Ma ce ne sono di tutte le forme! Come questo! Che è un enorme ovale! Wow! Ma questo scudo ovale, verde e in parte anche a scacchi... È veramente pesante! Credo proprio che lo poserò! Ecco! Lo metto proprio sopra questo! Oh! Oh! Beh! Credo che ci serva un altro elmo che mi calzi alla perfezione! Magari questo qui! Ne proverò altri finché non troverò quello giusto! Ok! Oh! Oh! È complicato! Ok! Ci siamo! Woo! Wow! Ecco! Sono vestito per l'addestramento da gladiatore! Mi manca solo un istruttore! Uh! Forse lui è un istruttore! Oh! Ciao! Io sono Blippi! Come ti chiami? Ciao! Mi chiamo Partacus! Oh! Sembra un tipo severo! Oh! Tu sei un istruttore di gladiatori! Sì! Certamente! Oh! Bene! Credi di poter addestrare me per diventare un vero gladiatore? Vuoi essere un vero gladiatore? Oh! Sì! Sarebbe fantastico! Allora andiamo nel Ludus! Oh! Il Ludus è la palestra dei gladiatori! Andiamo! Andiamo! Wow! Guardate qua! Questa è la palestra dei gladiatori! Wow! Uh! Ci sono tante belle cose da fare per diventare forte come un gladiatore! Ma... Da cosa iniziamo? Dovremmo iniziare dai due tipi... Tipi di corde! Dovremmo andare là e dopo saltare e poi... Abbiamo i sacchi di sabbia e... Il palo! Devi correrci intorno! Ok! E dopo le scale! E... Alla fine faremo addestramento con la legna pesante! Wow! Sono tanti esercizi e sembra divertente ma... Mi farai vedere tu come devo fare? Tu sei pronto? Sono pronto! Andiamo! Wow! Che bellezza! Si comincia! Cosa facciamo qui? Ora ti spiego come... Come funziona! Serve per... La velocità e l'agilità! Ok! E anche come riscaldamento! Quindi devi fare questo movimento! Uno, due, tre, quattro... Sempre sotto la corda! Dopodiché vieni qui e a piedi uniti salti da una parte all'altra della fune! Ok? E dopo... Veloce, veloce, veloce! Cosa? Devi arrivare qui in questa zona! E non devi toccare questi! Sono sacchi di sabbia con dentro i chiodi! Questo è difficile! Devi evitarli! E dopo... Dopo devi andare così... Intorno al palo! E quindi... Qui, nelle scale! Veloce, veloce, veloce! E dopo... Per ultimo... Devi prendere questo... E fare... Uno... Due... Tre... Quattro! Tanti affondi quanti riesci a farli! Giù! Wow! Sembra fantastico! Sì! Si possono fare tante cose per essere forti, veloci e molto agili come un vero gladiatore! Beh, credo che sia ora che ci provi io! Sei pronto? Sono super pronto! Ti aspetto nell'arena! Ok, ci vediamo lì! Ciao, a dopo! Ora possiamo allenarci per diventare gladiatori! Woohoo! Cominciamo! Woo! 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 E uno... Due! Wow! Vado avanti! Ah! Grazie a tutti. Mi sento pronto! Vai! Ora entriamo nell'arena! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo finito l'addestramento da gladiatori e ora abbiamo lo scudo, l'armatura e anche l'elmo! È il momento di fare il gladiatore! Ma nell'arena? Dai, andiamo! Wow! Avete visto? È tutto fantastico! Non riesco a credere che siamo nell'arena! È il momento di usare le nostre mosse da gladiatore! Cominciamo! E vai! Ecco! Ce l'abbiamo fatta! È dura essere un gladiatore! Come sto andando? E vai! Evviva! Ha alzato il pollice! Ce l'abbiamo fatta! Woohoo! Wow! Oh, ciao! Eccomi! Ciao, Blippi! Ehi, che cos'è? È una cosa che ho qui per te! Ti faccio vedere come funziona! Oh, ok! Questa è una rete da gladiatore! Wow, una rete da gladiatore! Osservate! Wow, che forte, ragazzi! Wow, e ora cosa fa? Wow, guardate! Oh, ti prego, posso provare? Sì, lanciala! Ok, allora vado! Proviamo a usare la rete da gladiatore! Vediamo un po'! Ok, prima bisogna tracciare un otto nell'aria! Proprio come ha fatto lui! Ok, vai con l'otto! E ora è il momento del lancio! Woohoo! Va bene! Forse mi serve un po' di pratica! Ecco il tuo attestato per aver completato l'addestramento da gladiatore, ok? Guardate qua! Ho completato il mio addestramento da gladiatore! Evviva! Beh, grazie infinite per l'addestramento! Grazie a te! È stato un piacere! Wow! Una stretta di mano da gladiatore! Grazie di cuore! Ciao, ciao! Wow! È stato fantastico! Abbiamo ottenuto l'attestato finale! E... Mi sono divertito un mondo alla scuola per gladiatori! Già! Abbiamo giocato a Iovedo, abbiamo seguito l'addestramento e... Ho anche indossato un'armatura da gladiatore! Woohoo! Bene! Siamo arrivati alla fine del video! Ma... Se volete vederne degli altri, non dovete fare altro che cercare il mio nome! Ehi! Fate con me lo spelling del mio nome! Ok! Andiamo! Oh! Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bravissimi! Bene! Ci vediamo presto! Ciao, ciao! Ehi! Sono io, Blippi! E oggi ci troviamo a Medieval Times ad Orlando in Florida! Wow! E guardate quello! È un castello gigante! Già! Wow! Ci troviamo nell'epoca medievale che risale a tantissimo tempo fa! Già, in pratica all'undicesimo secolo! Wow! Lo sapevate che nel Medioevo la gente non guidava le auto? No, perché andavano a cavallo! Che sciocchino! Ehi, voi non vi siete mai chiesti com'era la vita nel Medioevo? Io me lo sono chiesto! Beh, oggi voi e io entreremo qui nel castello di Orlando e impareremo tutto a riguardo! Già! E chissà, magari potremo vedere anche un vero cavaliere! Sarebbe davvero bello! Dai, andiamo a scoprirlo! Wow! Guardate quello! Quello è un vero cavallo! Salve, signor cavallo! Oh, è dolcissimo! Oggi ci troviamo nella scuderia del villaggio! Già! La scuderia è dove i cavalli mangiano dell'ottimo cibo! E fanno pisolini! già e dove si preparano e vengono equipaggiati per il torneo già lo sapete che verso fa il cavallo già esatto nitrisce e volete provare a nitrire insieme a me ok dai cominciamo che sciocchino beh questo è un cavallo molto carino ma che ne dite se noi andiamo a dare una mano a partare i cavalli per il torneo dai andiamo guardate un po questo tavolo ha tutto l'equipaggiamento necessario a preparare il cavallo per fare il torneo già guardate qua si questa è una spazzola che serve a togliere la polvere e lo sporco dal dorso del cavallo già questa serve per il corpo per spazzolare il suo corpo wow e guardate un po questa qui com'è appuntita già queste sono le spazzole per la criniera del cavallo e per la coda già hanno delle setole più lunghe che passano attraverso il pelo le possiamo usare anche noi che sciocchino wow e guardate qui qui c'è tutto quello che bisogna mettere sul cavallo abbiamo il sottosella già questo sottosella è morbido e soffice così e questo va messo per primo per assicurarsi che la sella sia comoda e assestata già wow e guardate questa questa è una sella davvero grande la sella può essere pesante e va messa sul dorso del cavallo affinché i cavalieri possano andare in giro a cavalcare e si allaccia con questa è come una cintura per il cavallo quindi si chiude poi si sale e infine si cavalca super veloce che sciocchino wow e questa questa è l'ultima cosa che bisogna mettere sopra al cavallo questa si chiama gualdrappa già una specie di coperta ed è di colore verde e marrone già ottimo lavoro già la gualdrappa aiuta i cavalieri a distinguersi fra loro e a distinguere un cavallo da un altro così che non sembrino uguali con le loro armature di metallo e i cavalli bianchi già questa va sopra la sella e va messa come ultimissima cosa ecco questo è tutto ciò che serve adesso è il momento di prepararsi a bardare il nostro cavallo per il torneo ok prima prendiamo una spazzola andiamo ciao ehi guardate questo è un cavallo davvero bellissimo ciao lui si chiama humo ciao humo per prima cosa spazzoliamo la pelliccia il pelo i cavalli non hanno la pelliccia già spazzoliamo per bene tutta la polvere eh sì ce n'è tanta già e ora che abbiamo pulito humo e tolto tutto lo sporco e la polvere possiamo mettere il sottosella la sella e infine anche la gualdrappa procediamo già ce l'abbiamo fatta noi abbiamo dato una mano a vestire humo per il torneo e guardate adesso è di colore verde e anche marrone già beh è stato proprio divertente aiutare a preparare humo ma adesso è giunto il momento anche per noi di andare a vestirci per partecipare al torneo ok stiamo per andare ma penso che humo sia stato davvero un bravissimo cavallo e per cena ha mangiato le sue squisite verdure e della frutta gli daremo una zolletta di zucchero ciao ottimo lavoro humo che solletico humo sei un bravo cavallo ma adesso dobbiamo andare a vestirci anche noi andiamo sono io il cavaliere blippi che sciocchino non sono un vero cavaliere ma oggi insieme vedremo di capire che voleva dire essere cavalieri mille anni fa è passato veramente tantissimo tempo vi siete mai chiesti cosa significasse essere un cavaliere beh doveva essere coraggioso e andare a cavallo che sciocchino e poi doveva essere forte e buono beh a ripensarci essere un vero cavaliere è molto complicato wow guardate un vero cavaliere è giunto il momento di nominare cavaliere sir blippi non sto nella pelle perché voi e io impareremo di più sui cavalieri ma avrò anche l'opportunità di diventarlo ma prima devo completare tre prove da cavaliere e guardate qui questa è la prima prova che dovrò affrontare si chiama la prova dei grandi anelli allora per vincere questa prova dei grandi anelli bisogna prendere una lancia che è un bastone molto molto lungo e farla passare in due anelli di seguito uno qui e uno che si trova laggiù in fondo se ne prendi solo uno si continua finché non ne prendi due per completare la prova da cavaliere vi assicuro che sarà divertentissimo ma prima equipaggiamoci da cavaliere andiamo guardate qui questa è una vera lancia una vera lancia e vi assicuro che è pesante questa è quella che userò per completare la prova dei grandi anelli ma cos'è un cavaliere senza il suo destriero e guardate questo è il mio cavallo fidato brownie ciao brownie ciao ok ho la mia lancia e ho il mio brownie pronti a procedere per la prova degli anelli andiamo ok ci siamo pronto brownie ok sono pronto anch'io prova da cavaliere sì ho centrato solo un anello significa che io e brownie ora dovremo ripetere la prova da cavaliere ancora una volta anche brownie la pensa così ok andiamo ok riproviamoci sì è stato molto difficile comincio ad essere stanco dopo questa prova ma guardate abbiamo preso entrambi gli anelli grazie per avermi aiutato brownie è stato davvero molto divertente e ora è il momento di passare alla seconda prova da cavaliere su andiamo a scoprirla venite wow brownie già ora abbiamo completato la primissima prova e siamo molto vicini a diventare cavalieri già ok la seconda prova da cavaliere è molto ardua servono agilità forza e ottime abilità a cavallo già si chiama lancio della bandiera e consiste nello scambiarsi al volo con un altro cavaliere la bandiera tre volte e se la si riprende tutte e tre le volte allora la prova è completata ok eccoci qua mi servirà un po d'aiuto il mio amico sir david mi darà una mano ok pronto sir david pronto ok cominciamo uno due tre o uno due tre ce l'abbiamo fatta abbiamo ripreso la bandiera per tre volte ragazzi è proprio divertente grazie brownie ok tutto ciò che rimane da fare la terza prova ed è una prova davvero molto difficile si chiama la vestizione da cavaliere devo mettere tutti gli abiti che indossa un cavaliere in meno di dieci secondi non penso mi servirà il tuo aiuto per questa prova ciao ciao a più tardi nella scuderia ok ora penso di essere pronto che parta il tempo sull'orologio cominciamo questa armatura è bellissima già ce l'abbiamo fatta abbiamo superato le tre prove da cavaliere e adesso sarà il cavaliere blippi sono così contento che penso di fare insieme un ballo della vittoria ok cominciamo è stato davvero fantastico ora posso essere un cavaliere non così in fretta blippi ciao sir david rimangono ancora due prove da fare ancora due prove ne abbiamo già completate tre spero che non siano più difficili quindi quali sono queste due prove devi imparare il codice dei cavalieri sapete cos'è il codice dei cavalieri neanche io sir david di che cosa si tratta un cavaliere deve essere valoroso ok quindi dobbiamo essere coraggiosi il suo cuore conosce solo virtù ok quindi significa che saremo molto buoni la sua forza sostiene i deboli e la sua lama difende gli indifesi significa che bisogna aiutare chi ha bisogno d'aiuto e le sue parole dicono solo la verità essere sempre sinceri sono molto facili possiamo farlo e qual è l'altra prova ma l'altra prova è il lancio del giavellotto a sentirlo sembra davvero molto molto difficile ma ehi ho la mia armatura da cavaliere e penso di riuscirci già ok procediamo credo di essere pronto per cominciare andiamo wow non ci posso credere potrò incontrare la regina e diventare un vero cavaliere ok siamo pronti io maria isabella regina del castello sovrana del regno nomino te blippi una due e tre volte cavaliere del mio amato reame ce l'abbiamo fatta ottimo lavoro per diventare cavaliere le prove sono state molto difficili vi ringrazio per avermi aiutato a completare tutte le prove è stato divertente imparare tutto sui cavalieri dell'undicesimo secolo che è stato tanto tanto tempo fa e è stato bello scoprire che non erano solo forti ma anche buoni e pronti ad aiutare gli altri beh siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne ancora non dovete fare altro che cercare il mio nome ehi facciamo lo spelling del mio nome già bl e p p e blippi ottimo lavoro beh adesso sono sir blippi chiaro che sciocchino beh ci vediamo prestissimo ciao 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 sono io blippi guardate un po cosa sto facendo wow arrostisco un marshmallow e poi farò uno smorr sì questa sera siamo al san diego zoo safari park a escondido california una cena molto salutare stasera e adesso è arrivato il momento del dolce ecco qua se avete il permesso di arrostire marshmallow comunque fatelo con un adulto vicino ok sì perché il fuoco è pericoloso ma ragazzi ho una notizia stupenda da darvi già qui si può passare una bellissima notte allo zoo grande c'è un campeggio all'interno del parco dove si passa la notte con gli animali oh guardate il marshmallow ormai è pronto sarà di sicuro buonissimo ehi andiamo a vedere la tenda dai andiamo non vedo l'ora di poter andare a dormire oh piazzola 22 oh guardate mi sono appena lavato i denti è molto importante lavarsi i denti prima di andare a dormire wow guardate che tenda sembra accogliente no vogliamo entrare così diamo un'occhiata guardate le favole della buonanotte di blippi voi siete abituati a leggere prima di addormentarvi io sì adoro leggere prima di mettermi a dormire ecco qua è meglio infilarsi subito nel sacco a pelo così poi appena letta la storia sarò pronto per dormire bene il letto è molto comodo blippi e le sue favole allora ok vediamo un po pagina numero uno una volta tempo fa esisteva un grandissimo e coloratissimo c'erano moltissimi animali diversi da me e da voi qualcuno era grande altri erano minuscoli alcuni altri facevano squawk facevano squawk altri altri facevano wow guardate c'è un animaletto wow ciao tu chi sei? ciao io mi chiamo laura ah piacere laura io mi chiamo blippi che cosa fai qui? lavoro con gli animali sono specializzata nel prendermi cura di loro e lei è una degli animali che vive qui al san diego zoo safari park wow che bello io so che tipo di animale ha questo è un istrice dico bene? sì più esattamente un istrice crestato si chiama così perché ha una cresta sulla testa oh è vero ehi ciao e come si chiama? si chiama Quilma oh Quilma oh si chiama così perché ha un sacco di aculei esatto però forte sembrano molto appuntiti di che cosa sono fatti? gli aculei sono fatti di cheratina proprio come i nostri capelli o le nostre unghie oh pensa beh i miei capelli non sono così appuntiti però credo che se fossero molto più spessi i capelli e le unghie sarebbero taglienti come i suoi aculei wow che cosa mangia? sta sgranocchiando dei biscotti ha dei denti molto affilati e soprattutto che non smettono mai di crescere quindi mangiare i biscotti lo aiuta a far sì che non si allunghino troppo oh molto interessante quindi a noi umani una volta che spuntano i denti non crescono più rimangono della stessa lunghezza invece a Quilma i denti continuano a crescere e crescere crescere e perciò ha bisogno di sgranocchiare per limarli un po' e averli sempre a posto uh che orecchie carine che hai eh Quilma che bella uh avete visto che i suoi aculei sono bianchi e neri a che cosa servono? è semplice ci sono molti predatori in africa perciò Quilma ha bisogno di proteggersi per questo quando è spaventata solleva tutti i suoi aculei per poter sembrare molto più grande di quello che è oh geniale uno splendido meccanismo di difesa ehi e riesce anche a spararli i suoi aculei? no un sacco di persone sono convinte che possa ma non è così è come se noi potessimo sparare via i capelli dalla testa è vero hai ragione bene allora buona merenda wow che bello c'è un altro animaletto wow ciao tu chi sei? ciao io mi chiamo Nolani oh molto piacere io sono Blippi piacere mio wow so che tipo di animale è questo direi che sembra proprio un grande riccio uh potrebbe essere in effetti ma questo in realtà non è un riccio certo si tratta di un echidna ed è originario dell'Australia wow non trovi che somigli un po' a Quilma che dici? sì sì hai ragione anche lui ha degli aculei appuntiti si chiamano così come quelli dell'istrice è un'altra bella somiglianza ma non sono degli aculei infatti sono delle spine sono molto simili agli aculei e per lo più hanno la stessa funzione ma ad esempio rimangono vicini al corpo e servono quando un predatore si avvicina e prova a mangiarselo in un boccone viene subito punto e non è un'esperienza molto piacevole bello è un altro grande meccanismo di difesa assolutamente sì wow guardate ha un naso veramente lungo esatto gli serve per fiutare gli insetti che ci sono sottoterra e infatti adesso sta mangiando una zuppa di insetti è quello che gli diamo da mangiare qui al safari park e come vedi usa la sua lunghissima lingua per mettere il cibo in bocca e dimmi un po' è un mammifero certo che è un mammifero sì il ragazzo è un mammifero ma fa un sacco di cose che gli altri mammiferi in realtà non fanno davvero ad esempio devi sapere che le femmine non lui perché è un maschio ad esempio depongono le uova il che è molto molto strano vero di solito i i mammiferi non lo fanno infatti partoriscono e poi danno ai piccoli il latte ora anche loro nutrono i piccoli con latte ma depongono una sorta di uova molli un po' come fanno i rettili ma non lo sono e quando i cuccioli escono dalle uova vengono fuori senza tutte queste spine sono molto soffici si chiamano puggle puggle che nome buffo è vero molto interessante non sapevo di mammiferi che depongono le uova sì in realtà c'è un altro animale che lo fa e qual è l'ornitorinco wow so come fatto un ornitorinco bravo è troppo bello grazie mille di avermi fatto conoscere questo animale wow guardate sono arrivati altri tipi di animaletti guardate questa sembra una tartaruga o testuggine già perché sicuramente il suo guscio è molto duro e guardate questi invece ciao sembrano molto soffici duro soffice perfetto impariamo a conoscerli che tipo di animali sono questi loro si chiamano tamandua tamandua che bellissimo nome sembrano un po dei formichieri sono dei formichieri in realtà sono conosciuti anche come piccoli formichieri quindi esistono i formichieri giganti che sono molto più grandi e poi ci sono i formichieri nani che sono molto più piccoli loro sono una via di mezza e sono bianchi e neri mi ricordano un po le puzzole puzzano anche loro assolutamente sì a dire il vero possono essere ancora più puzzolenti di una vero sono conosciuti come i puzzoni della foresta in america del sud che buffo cosa stanno mangiando è quella che chiamiamo zuppa di insetti diciamo che è il cibo che mangiano più volentieri qui al parco safari quindi mangiano piccole bestioline e insetti ne vanno matti ne ho anche un po qui in mano vediamo se questi gli piacciono o se li mangiano e direi che ha una gran fame però scusa vedo che ci sono tanti pezzi di legno qui intorno e sono tutti un po rotti come mai è uno dei loro passatempi preferiti squarciare il legno con i loro affilatissimi artigli così trovano gli insetti poi tirano fuori la lingua e la infilano nella fessura per poterseli mangiare interessante non lo sapevo perché hanno una lingua davvero lunga lunga misura all'incirca 40 centimetri vuol dire così più o meno è veramente lunga in pratica misura quasi quanto quella di una giraffa esatto le giraffe hanno una lingua molto lunga e tamandua ce l'hanno come loro vediamo un po se lei vuole fartela vedere eccola lì wow incredibile la lingua di questi animali è più o meno lunga quanto quella di una giraffa adulta guardate però quella dei tamandua è molto appiccicosa così gli insetti rimangono attaccati ecco quindi loro mangiano con la testa all'ingiù infilando la lingua nel terreno nelle fessure nel legno mentre le giraffe tengono la testa in su per mangiare le foglie molto interessante oh ciao sei simpatico e guardate che artigli sono sono come unghie i loro artigli sono molto molto in effetti sono grosse unghie e le usano per fare a pezzi le cose così come le usano per arrampicarsi oh sì ho capito in pratica avvolgono le zampe intorno ai rami per esempio perché vivono sugli alberi sì loro passano moltissimo tempo sugli alberi e usano anche la coda come una quinta zampa per arrampicarsi è stato fantastico imparare a conoscerli ehi ma come si chiamano lei è core core è la mamma di questo piccolo che invece si chiamata piacere di conoscervi allora ora vado a conoscere la tartaruga o la testuggine lo scopriremo a dopo ciao ciao è un una lei sita è un lui è una testuggine una tartaruga di terra è una specie che vive in africa la tartaruga leopardo una tartaruga leopardo africana e si chiama così perché ha qualcosa che ricorda i leopardi indovinato le sue macchie somigliano a quelle dei leopardi sono così perché lo aiutano a mimetizzarsi nell'ambiente in cui vive in africa infatti il terreno varia dal marrone scuro al marrone chiaro e in questo modo lui riesce a nascondersi anzi può persino ricoprirsi il guscio di terra e così diventa una roccia impolverata è veramente incredibile ottima mimetizzazione le rocce sono molto dure il suo guscio è altrettanto duro certo che si toccalo pure se vuoi così senti com'è wow forte è bello duro in effetti è molto duro serve anche per proteggere le parti molle più delicate del suo corpo però un perfetto meccanismo di difesa straordinario e dimmi può tipo togliersi il guscio oppure nascondersi all'interno il guscio non si può togliere è una parte del suo corpo quello che può fare è spostare tutte le parti molli come la testa dentro il guscio lo fa ritraendo il collo e poi può avvicinare tutte e quattro le zampe al corpo verso il guscio e in questo modo può anche sfruttare le squamme appuntite che ha qui per difendersi nel caso ci sia un predatore che voglia mangiare oh pazzesco e a proposito di voler mangiare all'aria di essere affamato che cosa mangia mangia una bella insalata e ci sono anche carote e rape anche libero in natura mangerebbe vegetali è un erbivoro quindi mangia molta erba e tanti altri piante questo è davvero interessante quindi queste tartarughe sono degli erbivori significa che mangiano le piante wow esattamente e lui è della grandezza massima in realtà no continuerà ancora a crescere adesso sita ha 20 anni compiuti ma le tartarughe leopardo africane vivono fino a 50 anni almeno diventano molto vecchie ah e la particolarità è che crescono fino alla fine ora sita pesa 13 chili più o meno ma può arrivare fino a 20 pensa quindi sita potrà pesare 20 chili un giorno e avere 50 anni 50 anni sono davvero davvero tanti è stato bello conoscerti grazie ci vediamo saluta sita beh ciao ciao wow guardate un po avete visto che bello ehi ciao che tipo di uccello è si chiamano ara giacinto e si trovano in sud america lui si chiama fulmine wow sud america stupendo è di un bellissimo colore blu è uno dei miei due colori preferiti fantastico sì è blu perché così può mimetizzarsi tra le cime degli alberi tutti gli alberi insieme fanno molta ombra e quindi il blu lo aiuta a confondersi e quasi non riesci più a vederlo ma forse si vedono le parti gialle sono molto evidenti è vero ma le parti di colore giallo sono fondamentali per i pulcini infatti quando le aree hanno dei piccoli li lasciano nel nido e quando mamma e papà tornano con il cibo i pulcini vedono gli occhi gialli e capiscono che sono i loro genitori wow è davvero fantastico e lui è molto carino e il becco sembra tagliente mangia tutti i semi e le noci che gli metti davanti sì ed è anche molto capiente adesso gli do una noce grossa vedrai come riesce ad aprirla wow in sud america esiste un tipo di noce che solo le aree giacinto con il loro becco riescono ad aprire sul serio però deve essere veramente resistente affilato sì un super becco wow è troppo forte e poi le noci e i semi sono sani perciò anche lui è molto sano che cos'è è un bastoncino bersaglio è uno degli attrezzi che usiamo per allenare i nostri animali abbiamo insegnato a fulmine ad andare a toccare la pallina sul bastoncino devi dire bersaglio sul serio bersaglio wow grande bravo sei in gamba ti va di riprovare dopo questo bello spuntino è stato incredibile spettacolare wow ecco qui bersaglio ok wow è stato davvero forte wow e quanto può vivere questo uccello le aree giacinto vivono tra i 60 e gli 80 anni più o meno e fulmine ne ha già compiuti 34 è un ragazzone wow ha già una bella età wow che uccello stupendo beh è stato un piacere conoscerti wow questo animale è fantastico lo adoro anche perché è di colore blu e poi ha un po di giallo intorno agli occhi wow scommetto che è in grado di volare molto veloce e anche molto in alto wow wow e poi gli piace mangiare sano mangia i semi wow wow guardate un po avete visto che uccello è appena arrivato wow è di un bellissimo colore nero e guardate il becco è tutto bianco wow è arrivato volando a gran velocità non sarebbe bello poter volare come un uccello sarà un'esperienza straordinaria e si guardate questa è una teleferica sulle teleferiche bisogna indossare l'imbracatura in modo da essere al sicuro e poi ci si aggancia a dei cavi metallici dopodiché si scende dalla cima della collina giù verso valle fino in fondo e ci sembrerà di essere uccelli coraggio andiamo wow wow eccoci qua oh grazie infinite lui è brandon e sta facendo i controlli necessari perché io sia al sicuro già per andare sulla teleferica devi aver compiuto otto anni oh brandon non riesco a chiuderlo mi dai una mano si grazie già dovete avere almeno otto anni e pesare almeno 30 chili ma c'è anche un limite massimo 140 chili bene sono a posto perfetto perfetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, mi è proprio sembrato di essere un uccello. Cocò! Cocò! Wow! Adesso mi sento un po' stanco. Oh, è stato fantastico! Oh, adoro gli animali! Wow! E ce ne sono di tantissimi tipi! E anche gli uccelli! È incredibile come riescano a volare! Già! Sbattendo le ali si sentiranno liberi! Wow! Ehi! Posso leggervi un'altra storia? Ecco! Vediamo! Questa è la storia di tutti quegli animaletti che dormono quando c'è la luce ma si svegliano nella notte. Quando noi... Quando noi andiamo a letto... Quando andiamo a letto, loro... Loro... Quando noi andiamo a letto... Wow! 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 Ciao! Tu chi sei? Ciao, sono Loren! Oh, piacere, Loren! Io sono Blippi! Che ci fai qui? Io sono una guida che lavora qui al Safari Park. Wow! Una guida, hai detto! Aspetta! Vuol dire che ci farai fare un giro? Più precisamente una visita notturna. Oh! Ecco perché ha un visore notturno appeso al collo! Oh! Così possiamo vedere gli animali! Wow! Che bello! Quali animali stiamo per vedere? Cercheremo tutti gli animali notturni. Oh! Sì, sono gli animali... Animali che stanno svegli durante la notte. Non vedo l'ora di trovarli. Possiamo andare? Sì, certo! E vai! Wow! È troppo divertente! È incredibile come si vede bene al buio con questi visori. Wow! Uh! Hanno la visione notturna e anche quella infrarossi. Sì, esatto! Si vede quasi meglio che con la luce. Wow! Bello! Wow! È troppo strano riuscire a vedere bene al buio. Già, alcuni animali sono in grado di farlo senza i visori. Wow! Dei pennuti! Caspita, ce ne sono tantissimi! Ehi, sono fenicotteri! È una grande colonia di fenicotteri rosa. Wow! Oh, sì! In effetti, sono tutti quanti rosa! Come mai sono rosa? Dipende dal cibo che mangiano. Si nutrono di crustacei simili ai gamberetti, che li fanno diventare rosa. Oh, wow! Sì, si reggono tutti su una zampa sola! Sono troppo carini! Guardateli bene! È fantastico riuscire a vedere cosa fanno i fenicotteri di notte. Wow! Oh, ecco, guardate un po' quanti sono! Wow! Oh, hanno iniziato a correre! Sono molto attivi di notte! Oh, è molto divertente! Ehi, qual è la cosa che ti piace di più qui? Qual è la tua attività preferita sul lavoro? Perché è bello poter lavorare con gli animali! Mi piace molto mostrare alle persone animali che non hanno mai visto prima, almeno non dal vivo! Già! Soprattutto gli animali che non hanno mai visto perché, ecco, vivono di notte! Wow! E qual è il tuo animale preferito tra quelli del parco? Grazie della domanda! Di certo il rinoceronte bianco meridionale! E come mai ti piace? Perché è enorme! È meraviglioso! E mi fa pensare a un cucciolo! Che cosa strana! I rinoceronti ti ricordano i cuccioli! Troppo forte! È il tuo animale preferito in assoluto o solo qui? In assoluto! Wow! È veramente fantastico! Wow! Mi sto divertendo un sacco! Wow! Guarda! Laggiù ci sono i rinoceronti! Belli! Che tipo di rinoceronti sono? Sono proprio dei rinoceronti bianchi meridionali! Una mamma con il suo piccolino! Wow! Sono troppo carini! Rinoceronti bianchi meridionali! È vero! Sono i tuoi animali preferiti in assoluto! Giusto? Esatto! Wow! Ah sì! Oh! Guardatela! Sembra grande e forte! Si svegliano spesso di notte? Sì, abbastanza! Ma in realtà si sentono più sicuri e tranquilli quando dormono con i membri della loro famiglia! Oh, ecco! È veramente incredibile! Per caso sai quanto pesano? Sì, possono pesare più di due tonnellate! Wow! Sono molto pesanti! Immagino che dovranno mangiare tantissimo cibo ogni giorno! Mangiano un sacco di cibo! E quando i piccolini nascono, pesano già 50 chili! Oh, wow! Sono dei gran bei cuccioloni! Però... Ciao, bella! Guardateli bene! I rinoceronti sono magnifici! Ehi, guarda, Blippi! C'è una giraffa! Oh, sì! È vero! Guarda là! C'è un piccolino! Wow! Ciao! È altissima! Wow! Non trovate stupendo che questi animali stiano svegli di notte mentre tutti noi dormiamo? Già! Oh! Ora ho passato! Oh! È stato spettacolare! Wow! Tutti quegli animali sono fantastici! Ed è interessante che alcuni tra loro siano notturni! Già! Significa che si svegliano di notte! Già! Mentre tutti noi dormiamo, loro sono svegli! Wow! È davvero fantastico! Oh! Ehi! Volete sentire un'altra storia? Svegliano di notte! Adoro leggere! Ok! Un brontolio nel pancino! Capita agli animali e anche a noi! Per diventare grandi e forti... Serve mangiare del cibo buono! Quindi aprite la bocca... Quindi aprite la bocca... Aprite... Quindi aprite la bocca... Spero che abbiate... Spero che abbiate fame... Wow! Come ti chiami? Ciao! Mi chiamo Eileen e mi prendo cura degli animali! Wow! Che bel lavoro! Io sono Blippi! E che cosa stai facendo? Ecco, sto per riempire un po' di bottiglie per dar da mangiare ai vari cuccioli! Wow! Sembra divertente! Posso aiutare? Sì, certamente Blippi! Ok! Ti va di riempire la prima per gli springbok? Uh, certo! Per prima cosa devi misurare 150 millilitri... Ok! ...e metterli nella bottiglia! Oh! Perfetto! 150 per lo springbok! Non vedo l'ora di scoprire di che animale si tratta! Ok, prima dobbiamo misurare! Cominciamo! Ecco fatto! Oh, un po' troppo! Rimettiamolo qui! Perfetto! Sono esattamente 150 millilitri! Fantastico! Adesso lo verso subito qui dentro! Uh, secondo me deve essere piccolo come animale! Sì, perché questa bottiglia è piuttosto piccola! Sì, e per di più non è nemmeno piena! Ok, ecco qua! Grazie, Blippi! Prego! Ora metto la tettarella! Ok, perfetto! Per chi è questa bottiglia gigante? Beh, quella è per un animale molto più grande e quel che metteremo dentro questa bottiglia lo prepareremo da zero! Cominciamo! Wow, che bello! Cosa facciamo? Per prima cosa verse un po' di... un po' d'acqua nel contenitore! Più o meno 2000 millilitri! Ovvero... due litri! Ok, quindi dobbiamo riempirlo quasi fino all'orlo! Ci siamo! È un bel po' di acqua! Scommetto che questo animale è davvero enorme! Wow! Oh! Siamo a metà! Non vedo l'ora di scoprire che animale sia! Ok! Sta diventando pesante! Bene! Ecco fatto! Adesso abbiamo l'acqua! Ora dobbiamo usare questo contenitore! Versaci pure la polvere usando l'imbuto! Oh! La polvere! Ok, mescoliamo la polvere insieme all'acqua! Bene! La devo versare tutta lì dentro? Tutta quanta, sì! Ok! Allora vado! È un animale grosso! Ecco fatto! Procediamo! Adesso! Ok! La polvere è dentro! Adesso dobbiamo aggiungerci l'acqua! Ne è uscita fuori un po', ma non fa niente! Ok! Ci siamo quasi! Fatto! E adesso devo mescolare? Squatilo più forte che puoi, Blink! Ok! Devi mescolarlo... Bene! Coraggio! Ok! Ecco fatto! Sei stato bravissimo! Perfetto! Adesso lo metto tutto nella bottiglia! Sì! Ti conviene usare questo? Così è più facile versarlo! Perfetto! O almeno credo! Bene! Tutto dentro! Wow! Wow! Ha un profumo buonissimo! Sì! È invitante, vero? Sì! Ecco qua! È pronta! Ecco! Tieni! La tettarella! E adesso dobbiamo scaldarli! Oh! E una volta scaldati possiamo andare a darli agli animali? Esatto! Poi li diamo a loro! Ma in realtà oggi ho già qualche altra bottiglia che è stata scaldata, quindi possiamo andare subito! Vai, vai! Sarà super divertente! Andiamo! Uh! Sono troppo emozionato! Forza ragazzi! Wow! Guardatela! Seguitemi entrate! È ora di mangiare! Buoni! Buoni! Questi sono gli animali più piccoli? Esatto! Sono di varie specie! Questo è uno springbok! Questo è un damalisco! Oh! E quello è un lichi del nilo! Ok! Quindi ci sono diverse specie di animali! Sì! Lo springbok! E l'altro com'era? Ehm... Il damalisco! Oh! Il damalisco! Forte! Uh! Sono molto carini! Ciao! Questa è un'altra! Un'altra springbok! Lei ha... Più o meno sei settimane! Wow! Ha veramente tanta fame! Ciao! Abbiamo fatto un ottimo lavoro con le bottiglie! Ah! Oh! Ciao! Aspetta che prendo la tua bottiglia! Wow! Ok! Uh! Avete visto quella? Sì! Ha delle corna sulla testa! Wow! Ho detto bene? Quelle... Sì! Sono corna? Sono corna! E cresceranno ancora! Oh! Le femmine di damalisco hanno le corna, proprio come i maschi, uguali! Oh! Wow! E gli piace anche mangiare quelle foglie! Adorano mangiare le foglie! Noi le chiamiamo ciglia e queste qui sono di acacia! Oh! Ciao! A dire il vero, gli springbok, quando vivono liberi, mangiano l'erba e adorano le piante! Wow! Ma non arrivano agli alberi! Oh! Anche al damalisco piacciono molto! Ok! Wow! Sembrano affamati! Una cosa che hanno tutto in comune è che vengono dall'Africa! Oh! Arrivano dall'Africa! E... Dimmi un po', corrono veloci? Hanno un buon olfatto? O saltano altissimo? Fanno cose del genere? Gli springbok si chiamano così perché saltano molto in alto! Si dice che riescono a saltare fino a tre metri d'altezza! E hanno anche una postura molto curiosa! Quando scappano da un animale che li sta inseguendo, sembrano più grandi! Wow! E saltano molto in alto! E poi hanno anche questo strano lembo di pelle qui dietro! Oh! Che quando sono eccitati si apre all'infuori! Wow! E non è chiaro a cosa serva effettivamente, ma è probabile che attragga altri... altri esemplari! Oh! Wow! Quindi è molto particolare! Beh, sono animali fantastici! È stato divertente! E hanno mangiato quasi tutto il cibo che gli abbiamo preparato nelle bottigliette! Esatto! Ma ce n'era anche una più grande, no? Certo che c'era! Vuoi venire con me dagli animali più grandi? Sì! Mi piacciono gli animali grossi! Ah! Non aspettavo altro! Uh! Quindi gli springbok erano quelli che hanno bevuto dalle bottiglie piccole! Sono curioso di scoprire chi verrà da questa bottiglia enorme! Si tratta del nostro amico Arthur! Vuoi darmi una mano a chiamarlo? Certo! Facciamo cambio! Bene! Quindi adesso scopriremo che tipo di animale è Arthur! Devi soltanto strizzarlo e vedrai che lui arriverà di corsa! Che suono buffo, vero? Più forte! Ok! Arthur! Dove sei? Ah! Oh! Eccolo che arriva! Oh! Allora io lo so che animale è Arthur! Wow! Beh, direi che questo non serve più! Eccolo! A quanto pare Arthur è un rinoceronte! Rinoceronte! Esatto, Blippi! È un rinoceronte bianco meridionale! Uh! Un rinoceronte bianco meridionale! Wow! Ciao, Arthur! Lo sentite? Direi che adora la pappa che gli abbiamo preparato! Sembra che gli piaccia! Sicuramente sì! Oh! Mi sembra molto più piccolo di un enorme rinoceronte adulto! È appena nato? È nato da non molto! Ha poco più di un anno! Perciò verrà da questa bottiglia ancora per un po', qualche mese! Ok! Ci metterà parecchio per diventare un grande rinoceronte! Già! Oh! Sembra che gli piaccia anche il pieno! Wow! Arthur è simpaticissimo! Ed è stato fantastico aiutare a dargli da mangiare! Bello! Adesso sono un po' stanco però! Wow! I rinoceronti sono... Bellissimi! Wow! Wow! Che splendida mattinata di sole! Beh! E che nottata stupenda ho passato! Ho dormito come un fascià! Già! Ora mi sento molto riposato! Wow! È stata divertente la notte allo zoo? Già! Abbiamo imparato un sacco sugli animali! Io adoro gli animali! Già! Gli animali grossi... E gli animali piccoli! Già! Adoro sia quelli grandi sia i piccoli! E poi è stupendo! Come certi animali stiano svegli durante la notte! Ah! Già! Beh! Io preferisco dormire di notte! Wow! Avete sentito anche voi? Wow! Eccolo ancora! Wow! Questo è sicuramente un animale! Non ho dubbi! Voi sapete che animale è? Hmm... Sembra un gattino, non vi pare? Mmh! Miau! Miau! No, secondo me è molto più grande di un gatto! Eccolo! È ancora lui! Wow! Ok! È un gatto, ma è molto grande! Ha una bella criniera tutto intorno alla testa! Sapete di che animale sto parlando? Già! Abbiamo sentito un leone! Wow! Wow! Vuoi imitare il leone insieme a me? Wow! 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 Eccolo di nuovo! Sì! Wow! È stato divertentissimo! E anche le storie! Non erano male! Sì! Bene! Siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro dovete soltanto cercare il mio nome! Facciamo insieme lo spelling! B-L-I-P-P-I Blippi! Ottimo lavoro! Bene! Alla prossima! Ciao ciao! Sì! Sono io Blippi! Oggi siamo all'Emmy's Playground di South Pasadena, California! Andiamo! Oggi impareremo i colori! Questo posto è fortissimo! Wow! Non possiamo andare oltre senza toglierci le scarpe! Ecco una scarpa! Ed ecco due scarpe! Ehi! Di che colori sono le mie scarpe? Sembra proprio che siano blu, arancione e bianco! Woohoo! Andiamo! Wow! Questo posto è coloratissimo! Wow! Non vedo l'ora di giocare qui! questa è piuttosto colorata guardate quest'auto quest'auto è di colore giallo e di colore rosso andiamo che buppo cosa c'è qui dentro wow è morbidissimo qui guardate questo questa scatola è piena di colori ci sono tanti colori da imparare dai continuiamo a esplorare sembra un bello dai entriamo ciao wow guardate qui questa palla era di colore blu qui ce n'è un'altra quella palla era di colore verde ben fatto wow wow il castello è proprio alto wow ehi come va wow guardate questi scalini wow vedete i colori guardate questo colore che colore è questo questo è il colore rosa questo colore questo qui già lo stesso colore del corrimano che colore è esatto è di colore giallo e proprio qui questo lo abbiamo già imparato questo questo e questo già tutti questi sono di colore verde aspettate un attimo non è il momento di dormire ma questo è un bel divano comodo vedete di che colore è che interessante questo colore questo colore è chiamato turchese wow è una specie di blu e verde mescolati insieme non è il momento di riposare è il momento di rotolarsi mi piace rotolarmi che oggetto buffo e anche colorato e credo che sia sgonfiato come lo gonfiamo guardate lì questo è un motore verde già questo è verde e giallo accendiamo a questo è un motore Grazie a tutti. Wow, ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Wow, che colore è questo? Già, è uno dei miei due colori preferiti! Esatto! E fa rima con più! Blu! E guardate questo? Questo è di colore... rosso! Molto bene! È il momento di andare sullo scivolo! Wow! Wow! Andiamo! Ciao! una palla nera birilli bianchi ciao laggiù guardate sono quassù in cima ora scenderò queste scale adesso sono in fondo alle scale forse devo arrampicarmi di nuovo fino in cima alle scale ciao ciao è così colorato qui mi piace gattonare lungo questi tunnel ok uno scivolo che emozione ok ok siete pronti 3 2 1 ciao lo scivolo è stato forte ed è uno scivolo rosa wow che cos'è questo mi piacciono i dinosauri guardate questi giocattoli sono carini ciao 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 come stai che buffo di che colore sono questi dinosauri già sono di colore viola e rosa guardate questo è un elicottero questi sono i miei due colori preferiti di che colori è questo elicottero già è di due colori blu e arancione mettiamolo via e esploriamo guardate quest'automobile azzurra guardate quest'altra questa sembra veloce mi piace imparare i colori insieme a voi wow è stato davvero fantastico giocare all'emmys playground di south pasadina california mi sono divertito un mondo ad imparare i colori insieme a voi ehi come il verde di questa pianta è stato divertente beh questo video è finito ma se volete vederne altri tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome volete fare lo spelling insieme a me? pronti? b l i p p i b l i p ottimo lavoro beh alla prossima oh ehi sono io b l i p e oggi ci troviamo all'associazione special spirit e alla fattoria di danny e siamo a los angeles in california qui incontreremo degli animali meravigliosi e poi non vedo l'ora so già che ci divertiremo un mondo andiamo wow guardate è un pony ciao già questo cavallino come si chiama il suo nome è jasper ciao jasper jasper è molto dolce guardate il suo mantello è di colore bianco e marrone oh si lascia accarezzare e ha un pelo davvero morbido ehi avete visto gli occhi di jasper sono di colori diversi wow questo ha un nome difficile si chiama eterocromia questo parolone significa in pratica che si hanno gli occhi di due colori diversi già quest'occhio è di colore marrone quest'altro invece wow è di colore azzurro wow sai hai proprio dei begli occhi jasper wow questo cavallo è molto grande e anche molto bello nome christopher pine colore marrone wow ora sto mangiando del fieno oh ehi ciao già lui continua a mangiare fieno è quello che mangiano i cavalli il fieno un sacco di fieno wow guardate questo grande cavallo ha una criniera proprio come jasper e una coda proprio come jasper wow ha anche dei grossi piedi oh guardate sapete come si chiamano i piedi dei cavalli? si chiamano zoccoli già avete visto? i cavalli hanno gli zoccoli bene è stato divertente imparare qualcosa sui cavalli ehi mi è venuta un'idea che ne dite se voi e io proviamo a cavalcare un cavallo vero? già se solo qualcuno fosse qui ad aiutarci ciao sono Blippi io sono Kegan ciao Kegan e lui è Apaci oh ciao Apaci Kegan posso cavalcare Apaci? certo che puoi Blippi sicuro sono così emozionato cavalcherò Apaci attenti ora monto in sella bravissimo Apaci continua così si proprio bravo oh guardate sono in sella ad Apaci adesso faremo un percorso sensoriale già in questo percorso si usano tutti i cinque sensori ci sono cose da vedere cose da ascoltare e da toccare wow sono emozionato ok andiamo al passo Apaci Apaci è davvero un buon ascoltatore oh guardate stiamo raggiungendo il primo oggetto del percorso sensoriale wow un segnale stradale wow ok proseguiamo guardate dei suonali wow che bel suono sentite suonano quando il vento li muove e anche più forte se ci giocate wow ok andiamo vediamo cos'altro c'è andiamo wow passiamo sul ponte wow wow e attraverso l'autolavaggio wow ehi guardate qui ci sono Apaci e Cherokee e ora li accompagniamo a prendere un premio andiamo wow siete proprio carini oh i cavalli sono incredibili oh ciao Keegan wow ok ci siamo ora è il momento dei premi ciao la vuoi una carota? wow adorano le carote e poi Apaci è molto affamato perché l'ho montato wow ehi forse anche Cherokee ne vuole qualcuna c'è Cherokee vuoi una carota? ne vuoi una? oh no oh te la prendo io è caduta wow aspetta ok ti do un'altra carota così avranno entrambi la stessa quantità di carote come premio mmm sono squisite? sono squisite? ehi! wow guardate dove sono dentro un recinto insieme a tutti gli animali ce ne sono di tanti tipi guardate questo è Sonny ciao Sonny lui è una capra lui è una capra adoro le capre sono simpatiche wow ciao Sonny è di due colori guardate di qua è marrone dorato e qui invece è bianco già Sonny è davvero molto bravo già le capre sono fantastiche perché sono abilissime scalatrici wow riescono ad arrampicarsi su qualsiasi cosa ad esempio anche qua sopra già riescono a salirci sopra senza problemi ehi sapete come si chiama il piccolo della capra? già capretto non è carino mi sembra un nome appropriato capretto già wow ma sapevate che quando le capre nascono sanno camminare immediatamente già appena nate anche se sono piccole sanno camminare wow è davvero strepitoso ehi andiamo a vedere se ci sono altre capre qui intorno venite dai ciao ciao wow ma questo è Sonny già Sonny è una capra maschio ma guardate c'è anche una capra femmina ciao guardatela Sonny ha colori diversi dai suoi questa capra ha il manto maculato bianco e nero ciao sono molto dolci e molto morbide ehi sapevate che alle capre piace fare i rottini? oh scusate sono simpatiche ed è bello accarezzarle wow guardate chi c'è qui voi sapete che animale è questo? già esatto questo è un maiale riuscite a grugnire come me? o come Hartley? già questo maiale beh in realtà non questo il maialino qua dietro si chiama Hartley e questa è la mamma di Hartley ciao mamma questa mamma è molto dolce oh dimenticavo facciamo il verso del maiale vuoi grugnire con me? che sciocchino oh i maiali sono molto intelligenti e hanno un olfatto molto sviluppato guardate vedete il suo naso? wow questo è un naso enorme è più grande del mio quindi sono bravissimi a fiutare gli odori così trovano il cibo wow guardate i maiali anche loro sono piuttosto morbidi ma non come le capre perché i maiali non hanno pelliccia e non hanno nemmeno pelo già i maiali hanno le setole sì eccole qui wow sono un tantino pungenti e sembrano quasi dei peli ma sono un po' più rigide e più dure già però sono piacevoli da toccare e da accarezzare e graffiano un pochino gratta gratta ah è bello conoscere questi maiali wow guardate Hartley è venuto a salutare questo piccolo si chiama Hartley perché qui ha un cuore bianco e in inglese cuore si dice Art ecco eccolo qui già wow Sonny mamma e Hartley questi animali sono straordinari oh c'è qualcuno che ci sta osservando sapete come si chiama questo animale? vi do un aiutino questo animale fa questo verso mh 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 già questo animale è una pecora uh ciao pecora questa pecora è davvero davvero molto carina mh già le pecore hanno un manto di lana mh alcuni tipi di pecore beh perdono un po' di pelo come i cani già certe pecore perdono la lana spontaneamente ma altri tipi di pecore come questa ad esempio devono essere tosate già esistono cesoie che sono praticamente delle forbici apposta per le pecore e servono a dare alle pecore una spuntatina sulla schiena però è molto importante non togliere troppa lana dal dorso della pecora perché potrebbero scottarsi la pelle al sole capito? è un po' come portare un cappello ma portarlo sulla schiena wow che buffo wow ehi volete sapere un'altra cosa? le pecore sono vegetariane anche questo è un parolone beh non proprio vegetariane lo sarebbero se fossero esseri umani si direbbe vegetariane le pecore sono erbivore wow erbivoro si usa per le pecore vegetariano per alcuni esseri umani già e significa che gli erbivori mangiano soltanto piante già piante niente carne wow le pecore sono fantastiche bene è stato molto interessante imparare qualcosa sulle pecore le capre e tutti gli altri animali qui alla fattoria di Danny mi sono divertito un mondo con voi e anche con voi amici miei ciao bene siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne degli altri non dovete fare altro che cercare il mio nome ehi fate con me lo spelling del mio nome? ok stavolta ci aiuteranno anche loro eh eh b l i p i blippi bravissimi bene ci vediamo presto vado a dare ai nostri amici e amiche uno spuntino ciao ciao